Leonardo da Vinci, e chi è? Bu Bu, vediamo se accende meglio Colaman incuso, questo deve essere da valore Dove le donne sono meravigliose Ma in cambio di che cosa? Di niente, assolutamente niente Niente Avrete miei ordini sul posto Ciao Salve Andate al Ritizzi Vuoi la materia prima? E con questa materia avrai più informazioni tu Dei nostri migliori agenti Grazie